Ennesimo colpo di scena nel trono di Brandoef Quando tutto sembrava pronto per la scelta, il tronista decide di annullare tutto e prendersi del Non era mai successo nella storia di uomini e donne che nel giorno della conclusione del percorso il tronista desse for Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni delle ultime registrazioni, condivise da Lorenzo Pugnaloni, tutto era pronto per il gran finale, le poltrone rosse, le corteggiatri Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni delle ultime registrazioni, condivise da Lorenzo Pugnaloni, tutto era pronto per il gran finale, le poltrone rosse, le corteggiatri Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni delle ultime registrazioni, condivise da Lorenzo Pugnaloni, tutto era pronto per il gran finale Ha detto di essere ancora indeciso e di non sapere Davanti alle lacrime, e allo sbigottimento delle corteggiatrici, il tronista ha annunciato che farà una giornata intera con ognuna di loro e poi sarà davvero così? E soprattutto, le corteggiatrici accetteranno questo posticipo